Oddio, finalmente! L'ho preso l'ultimo posto! Sì! Sì! Oddio! Ma perché la nostra classe? Adesso è l'ultimo piano! Oh mia, che scuole! Mamma mia! Altri nove mesi di scuola! Io prof non li ho fatti! Prof, stavo lavorando l'estate e poi mi sono consa l'estate! Mi sembra ovvio, eh! Non lo so! Mamma mia, che caldo! No, vabbè, prof, ma proprio qua dovranno metterci la classe! Raga, raga, qualcuno di voi ha una penna? E no, perché nella mia borsetta non ci stava! Senti, è il primo giorno di scuola, che cavolo vuoi che facciano i prof? Prossima settimana, tre verifiche e quattro interrogazioni ogni giorno di passo! Sì! 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 Sì!